Siamo con lo chef Pietro Calcagno che ci parla di un piatto veramente particolare. Buongiorno a tutti, Tagliolini. Quando siamo in Piemonte a Biella parliamo di taglierin e quando siamo al ristorante La Lira usiamo quella che è la ricetta più classica, farina e uova. Nel nostro caso solo tuorlo d'uovo. Selezioniamo delle farine biologiche e delle uova di altissime qualità che poi andiamo a mettere insieme per ottenere il taglierin di cui parlavamo prima. Piatto unico che in questa stagione abbiamo deciso di farlo sposare con il re tartufo, come ogni anno. Un'esperienza multisensoriale? Sicuramente sì, da provare. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Grazie a lei.